Il trentottesimo giorno di fila nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Padova è poco importa che sia domenica. Al fronte degli eroi in corsia il ritorno all'ora legale non fa differenza perché qui si lavora giorno e notte. Vengo tutti i santi giorni a fare assistenza ma soprattutto a curare i rapporti con i parenti che non possono vedere i pazienti. E io tutti i giorni sto al telefono a lungo con loro per confortarli, per informarli. Eugenio Serra è caporeparto in corsia ormai da trent'anni, da febbraio vive isolato per non mettere a rischio i familiari così come il direttore dell'istituto padovano di anestesia e reanimazione Paolo Navalesi che la moglie e i figli a Milano non li vede da 40 giorni da quando la strage silenziosa del covid-19 ha portato le prime vite da salvare a Padova. Stiamo usando dei farmaci che sono stati usati per altre patologie e sui quali l'anedottica, il reporting anedottico dei colleghi cinesi ci ha dato alcuni suggerimenti. Che io le dica che sono certo che tutto quello che usiamo è sicuramente utile sarei veramente sciocco e presuntuoso. Il confronto con i colleghi di tutto il mondo è continuo come ci spiega Navalesi però le domande restano troppe, le risposte per ora poche tra i tentativi da ora anche l'utilizzo del plasma dei pazienti guariti da covid-19. L'idea è far fare una donazione di sangue, separare i globuli rossi dal plasma, immettere quindi un emoderivato che abbia al suo interno gli anticorpi per il coronavirus. Una corsa contro il tempo per salvare il salvabile e riuscire a ridare fiato a chi non ne ha più. Persone che arrivano con una difficoltà respiratoria incredibile però devo dire che siamo animati anche da una speranza. Abbiamo dimesso parecchi pazienti, siamo felicissimi di questo.